Ok? Guardia, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. knee some each knee some each knee some 2 torno 1 torno indietro 1 torno 1 torno 1 e torno bene faccio sinistro e l'altezza del mento un po' più avanti ok questa è la posizione di guardia quindi saluto guardia bene da qui iniziamo a fare i primi colpi come va come